Ciao ragazzi e benvenuti, nella gamma 18-19 di Burton prendono posto i pro model di Danny Davis, si chiamano Deep Tinker e Free Tinker e sono stati ideati appunto dalla casa americana in collaborazione con questo famosissimo Pro Rider. Sono due modelli diciamo complementari, ovvero averli tutti e due sicuramente consente di avere una gamma di tavole veramente ampia e per affrontare qualsiasi situazione. La costruzione, perché le trattiamo insieme? Perché la costruzione fondamentalmente è la stessa, le differenze fondamentalmente sono nello shape e nel camber. Ovviamente i tipi di utilizzo sono diversi, andiamo a vederli più nel dettaglio dopo. Partiamo dalla Deep Tinker, è una tavola direzionata, leggermente tapered, quindi punta e coda completamente diverse, un camber centrale, bello alto, potente e un rocker in punta. Mentre la Free Tinker ha uno shape twin, quindi punta e coda perfettamente identiche, e un camber centrale alto a tutta tavola. Ovviamente tutto il resto è in comune, la soletta sintetizzata VFO molto molto veloce, il core Superfly 700 o Dragonfly 700, non vorrei dire una boiata, Superfly 700, le stringhe in carbonio a 45 gradi per irrigidire queste tavole torsionalmente, renderle veramente precise e reattive, e qua sostanzialmente si fermano i tratti in comune. Quindi, quali sono in realtà le caratteristiche sulla neve di queste due tavole? La prima, la Deep Tinker, è un mezzo da pipe, da velocità, molto molto tecnico, molto preciso, molto reattivo, galleggia anche ottimamente in fresca, quindi si può spostare in quella che, diciamo, noi comuni mortali cataloghiamo, consideriamo più un all-mountain. Quindi una tavola perfetta per girate in pista a velocità abbastanza sostenute, uscite in fuori pista e park sulle strutture un po' più impegnative, un po' più grosse. Non è una tavola facilissima da pressare, da agibare. Mentre la Deep Tinker mantiene la stessa reattività, la stessa precisione della sorella, diventa un pochino più easy, grazie al profilo twin e al camber centrale, è un mezzo, chiaramente più parchettaro, che si presta di più a trick e a strutture, anche un pochino, diciamo, prese a velocità un pochino meno sostenuta, e sicuramente si fa apprezzare tantissimo anche quando le manovre vogliono essere portate in pista, quindi fuori dal park. Ovviamente il galleggiamento è inferiore. Quindi, sceglierei la Deep Tinker, se io fossi un rider abbastanza potente, schillato tecnicamente, porterei questa tavola molto volentieri in pista, velocità sostenute, in fresca, e insomma, per girare in pipe sicuramente è un'arma non da sottovalutare. Mentre la Deep Tinker sicuramente è una tavola più ad ampio appannaggio, se la possono permettere sostanzialmente più rider, sicuramente chiede un ottimo livello tecnico, essendo una costruzione comunque abbastanza strong, abbastanza reattiva, ma è molto divertente quando si sa quello che si sta facendo e si vuole adottare uno stile un pochino più easy, un pochino più di cazzeggio. Se vi incuriosiscono, volete sapere di più, volete una comparativa magari più specifica su alcuni aspetti, scriveteci pure qua sotto nei social per email. Se invece volete provarle, Barton ogni tanto ci dà a disposizione le sue tavole, nelle nostre uscite, date un'occhiata sul sito per vedere gli eventi a cui saranno disponibili. A presto e boom!